Con questo tutorial vediamo delle scomposizioni di riepilogo. Partiamo da questo esempio. Questo polinomio può essere scomposto per differenza di quadrati, dove questo è il primo quadrato e questo è il secondo quadrato. E vado a scrivere a meno b che moltiplica a più b. Adesso sommo 3x con meno x e 3x con x. In questo polinomio posso eseguire un raccoglimento parziale. Qui metto in evidenza un x alla quarta. Questi altri due termini li ho messi tra parentesi e ho scritto uno per. In questo modo appare più evidente cosa mettere in evidenza, ossia x alla seconda meno 1. Infine scompongo x alla seconda meno 1 per differenza di quadrati e questo è il polinomio scomposto. In quest'altro esempio fisso l'attenzione sui termini centrali, dove posso mettere in evidenza un meno 4xy. Quello che mi resta è x alla seconda meno y alla seconda, che lo posso scrivere come differenza di quadrati. Ora mi rendo conto che posso eseguire un raccoglimento totale mettendo in evidenza x meno y e x meno y. E termino l'esercizio. In quest'altro esempio, 4 meno alla seconda lo scompongo per differenza di quadrati e la stessa cosa lo faccio qui. 4 meno b alla seconda lo scompongo per differenza di quadrati. Ora vediamo cosa posso mettere in evidenza. Ho 2 meno a e 2 meno b in questo termine e in questo termine e allora metto in evidenza questi due fattori. Qui mi rimane 2 più a, qui invece mi rimane 2 più b. Somma infine questo 2 con questo 2. E termino l'esercizio. Qui posso eseguire un raccoglimento totale e vado a mettere in evidenza un 3x quadro. In questo termine mi resta a più b. Qui, mettendo in evidenza un 3x quadro, mi resta meno che moltiplica a meno b e quindi vado a scrivere meno a più b. Adesso posso andare a semplificare a con meno a e poi sommo le b. Eseguendo infine questa moltiplicazione ottengo 6bx alla seconda. Vediamo questi altri esempi. Qui posso eseguire subito un raccoglimento totale mettendo in evidenza un 3. Ora posso eseguire un raccoglimento parziale. Qui metto in evidenza una x e qui metto in evidenza un meno 2y. Infine posso mettere in evidenza un a meno b. E allora questo 3 lo ricopio. Qui ho messo in evidenza un a meno b e quello che mi resta è x meno 2y. In quest'altro esercizio posso eseguire un raccoglimento parziale. Qui metto in evidenza una x e qui metto in evidenza un 2b. Ora eseguo un raccoglimento totale e vado a mettere in evidenza 2 terzi a meno 1. Quello che mi resta è x meno 2b. E termino l'esercizio. In quest'altro esempio fisso l'attenzione su questi due termini. Li penso scritti tra parentesi e moltiplicati per 1. In questo modo posso eseguire un raccoglimento totale. Qui di 3x più un mezzo y ce n'erano 2 e allora vado a riscrivere 3x più un mezzo y. Poi se prendo questa quantità, la divido per questa quantità, mi resta 1 e allora scrivo più 1 e termino l'esempio. In quest'altro esempio la prima cosa che faccio è osservare che se scrivo 2y alla terza meno x o x meno 2y alla terza è la stessa cosa visto che è elevata al quadrato. Ora posso eseguire un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza x meno 2y alla terza tutto quanto alla seconda. Quello che mi resta qui è una x, poi meno, quello che mi resta qui è questo 1 e quindi scrivo meno 1 e termino l'esempio. Vediamo quest'altro esercizio. Posso eseguire un raccoglimento totale tra 12 e 6 ed osservare che alla seconda meno b alla seconda lo posso scomporre per differenza di quadrati. Ora eseguo il raccoglimento totale. Questa quantità diviso questa quantità mi resta 2, poi meno questa quantità diviso questa quantità mi resta a meno b e allora devo scrivere meno a più b e termino l'esercizio. Vediamo questi altri esempi. Parto da questo ed eseguo subito un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza un 6. Quello che mi resta qui all'interno mi rendo conto che è una differenza di quadrati e allora vado a scrivere a meno b che moltiplica a più b e termino l'esercizio. In quest'altro esempio eseguo un raccoglimento parziale. Qui metto in evidenza un x quadro, qui metto in evidenza un meno 9. Ora posso eseguire un raccoglimento totale e metto in evidenza un x più 4. Mi rendo conto infine che x alla seconda meno 9 lo posso scomporre per differenza di quadrati. E termino l'esercizio. In quest'altro esempio eseguo un raccoglimento parziale. Qui metto in evidenza un x quadro, qui metto in evidenza un meno y alla quarta. Osservo che in questi due termini, dopo che ho messo in evidenza meno y alla quarta, ho scritto quello che mi resta prima di questo termine, ossia x alla seconda, poi quello che mi resta di quest'altro termine, ossia meno 4y alla seconda. Ora posso eseguire un raccoglimento totale. Ancora non ho finito perché questa quantità la posso scomporre per differenza di quadrati e anche questa quantità la scompongo per differenza di quadrati. Dopo le due scomposizioni termino l'esercizio. In quest'altro esempio applico direttamente la differenza di quadrati e quindi vado a scrivere a che nel mio caso è a più 2 meno b che vale 1 per a che è a più 2 più b che vale 1. Adesso sommo 2 con meno 1 e 2 più 1. E termino l'esercizio. In quest'altro esempio posso eseguire un raccoglimento totale e metto in evidenza un 3. Mi rendo conto ora che questo fattore non è nient'altro che un quadrato di binomio e quindi vado a scrivere x alla seconda meno 2a tutto quanto alla seconda. In quest'ultimo esempio posso mettere in evidenza un meno a e poi mi rendo conto che questo fattore è un quadrato di binomio dove questo è il primo quadrato e questo è il secondo quadrato e vado a scrivere 7a più b tutto quanto alla seconda. Vediamo questi altri esempi. In questo esercizio posso mettere in evidenza un meno 2x. Ora osservo che questa quantità è un quadrato di binomio e vado a scrivere meno 2x che moltiplica b più 1 alla seconda. In quest'altro esempio eseguo un raccoglimento totale mettendo in evidenza x alla terza. Poi mi rendo conto che questo fattore lo posso scomporre come quadrato di binomio e vado a scrivere x alla terza che moltiplica x meno 5 alla seconda. In quest'altro esempio fisso l'attenzione su questi ultimi due termini. Li penso scritti tra parentesi e moltiplicati per 1. In questo modo posso eseguire un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza x più 1. Ora fisso l'attenzione su quest'altro fattore. Lo posso scomporre perché è un quadrato di binomio e vado a scrivere x più 1 che moltiplica a meno 1 alla seconda. Vediamo quest'altro esempio. Posso mettere in evidenza un 4. Poi mi rendo conto che questo fattore è un quadrato di binomio e vado a scrivere 4 che moltiplica a alla seconda meno 1 alla seconda. Ancora non ho finito perché questo fattore lo vado a scomporre per differenza di quadrati e poi distribuisco questa potenza 2. E in questa maniera ho scomposto completamente questo polinomio. In quest'altro esempio fisso l'attenzione sui primi due termini e sugli ultimi tre termini. Nei primi due termini metto in evidenza un 2. Qui invece mi rendo conto che è un quadrato di binomio. Eseguo ora un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza x più y e termino l'esercizio. In quest'altro esempio eseguo un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza una a. Poi fisso l'attenzione su questi due termini dove posso mettere in evidenza un meno b. Ora scompongo questi due termini come differenza di quadrati ed infine posso eseguire un raccoglimento totale mettendo in evidenza a più 1 e questa è la scomposizione di questo polinomio. Vediamo questi ultimi esempi. Parto da questo esercizio. Qui posso mettere in evidenza un 2. Posso eseguire un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza 2a più 3b. In questo fattore quando metto in evidenza un 2a più 3b mi resta 2a più 3b. Qui mettendo in evidenza 2a più 3b mi resta meno 2 che moltiplica più b e per questo ho scritto meno 2a meno 2b. Ora posso semplificare 2a con meno 2a ed infine sommare 3b con meno 2b e termino l'esercizio. In quest'altro esercizio posso mettere in evidenza un 2x meno y. Qui mettendo in evidenza 2x meno y mi resta alla seconda più 2b. Qui mettendo in evidenza 2x meno y mi resta meno b che moltiplica b più 2 e vado a scrivere meno b alla seconda meno 2b. Ora vado a semplificare 2b con meno 2b e poi osservo che posso scomporre alla seconda meno b alla seconda come differenza di quadrati e termino l'esercizio. In quest'altro esempio fisso l'attenzione su questi due termini è una differenza di quadrati. Ora posso eseguire un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza x meno y. Qui mettendo in evidenza x meno y mi resta x più y che sono questi due termini. Qui mettendo in evidenza un x meno y mi resta meno 3 che moltiplica x meno y e quindi vado a scrivere meno 3x più 3y. Ora sommo i termini simili ed infine qui all'interno posso mettere in evidenza un meno 2 e termino l'esercizio. In quest'altro esempio fisso l'attenzione sul primo e terzo termine dove posso mettere in evidenza un x alla quarta mentre tra meno x e 2 metto in evidenza un meno 1. Ora posso mettere in evidenza un x meno 2 per x alla quarta meno 1 ma x alla quarta meno 1 lo posso scomporre ulteriormente per differenza di quadrati e vado a scrivere questi tre fattori. In quest'altro esempio fisso l'attenzione su questi tre termini dove metto in evidenza un meno 1. Mi rendo conto ora che questa quantità è un quadrato di binomio. Ora se metto tra parentesi a meno b e lo penso scritto come 1 per posso eseguire un raccoglimento totale. Vado a mettere in evidenza un a meno b e mi resta 1 qui di fronte c'è un meno e quindi vado a scrivere meno a più b e termino l'esercizio. In quest'ultimo esempio qui metto in evidenza un a alla quarta e qui metto in evidenza un meno b alla quarta. Posso eseguire ora un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza a alla seconda più b alla seconda. Ora posso eseguire un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza a alla seconda più b alla seconda. Ancora non ho finito perché a alla quarta meno b alla quarta lo posso scomporre per differenza di quadrati. Devo fare un'ultima scomposizione perché a alla seconda meno b alla seconda lo scompongo per differenza di quadrati. Questi due fattori sono uguali allora vado a scrivere a alla seconda più b alla seconda tutto quanto alla seconda. A alla seconda meno b alla seconda l'ho scomposto come a meno b per a più b e termino l'esercizio. E con questo termino il tutorial su scomposizioni di riepilogo.